In tutto nove i consiglieri che rassegnano le proprie dimissioni facendo cadere di fatto l'amministrazione comunale di Capaccio Pestum retta dal primo cittadino Franco Palumbo. Si tratta del presidente del Consiglio Comunale Nino Pagano e dei consiglieri di opposizione Luca Sabatella, Pia Dinolfi, Pasquale Mazza, Pasquale Accarino, Alfonsina Montechiaro, Fernando Maria Mucciolo e Francesco Petraia. Le firme sono state protocollate in municipio all'attenzione del prefetto di Salerno, del segretario generale del Consiglio Comunale e alla presenza del notaio Antonio Paolino. Considerata la situazione politica determinata si inseno al Consiglio Comunale al fine di rispettare il mandato degli elettori, con la presente rassegniamo le dimissioni dalla carica di consiglieri comunali di Capaccio Pestum. Inizia così la sottoscrizione notarile che innesca la decadenza dalla carica di sindaco di Franco Palumbo dell'Aggiunta e lo scioglimento del Consiglio Comunale. La mancata trasparenza nell'azione amministrativa e il discutibile impiego delle risorse comunali, con aggravio dei tributi a carico dei cittadini, sono tra i motivi principali che hanno portato a malincuore i suddetti consiglieri ad intraprendere questa azione politica finalizzata a tutelare esclusivamente gli interessi della collettività di Capaccio Pestum, si continua a leggere nel testo. Sotto il profilo dell'efficacia e delle conseguenze che discendono dalla presente dichiarazione di volontà, si invitano ad emettere ciascuna per le rispettive competenze gli atti obbligatori per legge. Intanto il prefetto di Salerno dovrà nominare un commissario prefettizio che guiderà l'ente civico fino alle prossime elezioni, che si terranno probabilmente nella prossima primavera. Così, dopo 18 mesi, termina l'amministrazione civica retta da Palumbo, eletto sindaco al ballottaggio lo scorso 27 giugno del 2017.